Pamela Camassa smaschera Elena Prestes. Hai detto che la suora è morta. Pamela Camassa ha messo spalle al muro la naufraga. Lanciata una gravissima accusa. Che tra Elena Prestes e la naufraga dell'isola dei famosi non scorra certo buon sangue non è certo un mistero per nessuno. Difatti non c'è stata una sola occasione in cui non abbiano battibeccato animatamente. E anche in queste ultime ore le due hanno dato vita ad un accesissimo confronto a Caio Cochinos. Cos'è successo? La compagna di Filippo Bisciglia ha puntato il dito contro Elena. Arrivando addirittura ad accusarla di aver detto che, la suora è morta. Provochi tutti. Per far sbroccare Cristina Scuccia ce ne vuole. Hai detto. La suora è morta. Tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto. Hai detto. Suora è morta senza umanità. Elena Prestes nel mirino della concorrente. Hai detto una cosa offensiva. Pamela Camassa ha continuato ad attaccare a testa bassa la naufraga dell'isola dei famosi facendo presente che ciò che avrebbe detto a Cristina Scuccia sarebbe senza ombra di dubbio offensivo. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone. Puoi dire una roba del genere? La compagna di Filippo Bisciglia. La quale giorni fa si è sfogata amaramente. Ha anche accusato Elena di essere riuscita a far diventare il reality show VIP condotto da Hilary Blasi. Trash come mai prima. Questo programma non era trash prima e adesso lo è diventato con te è palese. Insomma la Camassa pare davvero avere il dente avvelenato nei confronti della giovane modella brasiliana. L'isola dei famosi. La naufraga senza freni. Ci sta provocando. Pamela Camassa è però un vero e proprio fiume in piena e parlando a tu per tu con gli altri naufraghi del reality show VIP di Hilary Blasi, ha cercato di aprire loro gli occhi per non cascare nelle presunte provocazioni di Elena Prestes. Anche se non ha fatto mistero di credere sia complicato non rispondere a questi suoi presunti insulti. Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio. Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci. Però è difficile. Se una ti offende che stai zitto? Secondo quest'ultima la Prestes avrebbe messo in atto una fine strategia per avere una loro reazione scomposta. La Camassa non ha inoltre nascosto di essere altresì molto infastidita che Elena stia cercando in tutti i modi di fare la vittima con Marco Mazzoli. E, cascato nelle sue grinfie. Le due si chiariranno mai?